Quindi l'organizzatore del Festival Città di Caltanissetta, Tony Maganucco, ha dichiarato che terminata la Kermesse consegnerà il marchio al Comune. È stato detto con sfida perché il Comune non collabora come dovrebbe? Ma diciamo che io ho detto prima in conferenza stampa che capisco lo suogo dell'organizzatore, di Tony Maganucco, affermando quello che ha detto e che lei giustamente ha riportato. Il Comune è nella possibilità in questo momento di aver dato 12.500 euro di poter elargire questo contributo e questa somma. Capisco benissimo che per i dati che dice Maganucco non sono bastevoli per tutte le spese che ha da affrontare. Però io voglio ricordare, così come ho detto prima, che dobbiamo noi far quadrare il bilancio comunale. Non possiamo dare ovviamente dei finanziamenti in questo momento superiori a questa cifra che abbiamo appunto concesso per l'organizzazione del Festival Città di Caltanissetta. E' chiaro che in questo momento abbiamo grandissimi problemi, però per carità la cultura, gli spettacoli in una città come la nostra debbono anche esserci perché sono momenti di svago, sono momenti di grande attrazione non solo a livello provinciale o regionale ma anche in alcuni casi a livello nazionale. Alcune manifestazioni storiche di questa città sono state eragliate proprio perché non c'era la possibilità economica di poter sovvenzionare appunto questi eventi. Stiamo facendo una scaletta di interventi di un programma annuale dove in base sempre alla situazione economica possiamo dare quel contributo che secondo noi, ma non secondo noi, secondo il bilancio comunale, secondo i finanziamenti che abbiamo, dobbiamo far rispettare. Il bilancio deve fare rispettare, ho detto anche prima in conferenza stampa che vogliamo organizzare anche il settembre del senno perché voglio ricordare che ci sono tante famiglie che purtroppo non possono neanche andare al mare neanche un weekend e quindi è giusto che restanti in città abbiano anche loro diritto a degli svaghi che secondo noi riteniamo indispensabili per queste persone che sicuramente appunto non possono permettersi una vacanza.